Siamo a casa di Martina e Marco, buongiorno padroni di casa, anzi buonasera giustamente, con Veronica e Loreno di Vivere il Benessere, quindi con loro faremo vedere quello che viene fatto, è stato fatto anche agli altri protagonisti del reality per capire cosa? Dei valori come il peso che non è solo quello, ma anche quanto pesano le ossa, quanta acqua sia nel corpo, il metabolismo da fermi, l'età metabolica, quindi quanti anni si ha, realmente il grasso viscerale, che è il grasso tra gli organi e poi una rotazione finale. Martina è già preoccupata, perché sono parole un po' particolari, che sembra una bilancia, in effetti non è proprio una bilancia, va bene, cosa dici, con chi vuoi cominciare? Cominciamo con la donna. Siamo cavalieri fino in fondo, allora sentiamo cosa deve fare Martina, no questa la cancelliamo, bip, scrivila senza dirla, fai un bel zoom sull'età, la sai la sua età, perché qui adesso vediamo l'età vera, come è l'età delle cellule, l'età genetica, sicuramente io sono rovinato, va bene, allora viene impostata la bilancia, spieghiamo. Impostiamo l'età, adesso impostiamo se è maschio o femmina, atleta o meno, se è atleta. femmina, atleta, vediamo, cosa dici Loreno? Aspirante o atleta? Aspirante. No, no, agonistico nulla. 1,55, vabbè l'altezza, poi impostiamo, va adesso, bisogna prendere i due elettrodi. Marco vai a prendere un bicchiere d'acqua per la signora, magari dovesse avere un momento di abbandono. Sali pure. Ok, non si può. Come mai la bilancia sta suonando? È un problema. Lo sai del 2006. Perché lei fa così? Non possiamo inquadrare per la privacy i numeri. Non mi fa il 2006. No, devo rimpostare i numeri. Rimposta, rimposta, vedi Martina. Hai già sbilanciato la scuola. Abbiamo già fatto il rapporto con gli elettrodomestici, con tutto ciò che è elettronomica. Intanto questa, vediamo anche, approfittiamo, questo piccolo angolo della casa. Quanto è che abitate qua? Lei tre anni. Io tre anni. Eh bravo. E io sei mesi. E sei, sei stato adottato recentemente. Esatto, di recente. Ok, ora funziona. Riproviamo. Sopra, mettiti con le braccia un po' aperte. Perfetto. Cos'è il peso? Sì, ma guarda pure dritto. Il peso lo guarda solo, autorizzato solo. Ma sei vestita, amore. C'hai anche le cose, come si dice. C'hai anche la catenina addosso. Non vorrei dire. Anche i braccialetti. Anche i braccialetti. Tre braccialetti. La città inglesa è quella che pesa. Ecco, lui è già provveduto a... Per sicurezza. Va bene, allora fai quello che devi fare. Non ti vogliamo interrompere. Poi? Basta. Ok, adesso attiviamo i vari valori. Tutto rosso. Ha fatto tutta la bilancia, vedete? Non si può guardare. Tutto rosso. Cosa, guardi? Non, stavo guardando. Non è io da tre camera. Beh, Monica. Va bene, va bene. Allora, va bene. Facciamo pause, intanto vengono analizzati i dati. Va bene. Ecco Loreno che fa la valutazione dei dati. Sono sana. Nel frattempo è arrivata anche Angela. Ciao Angela, sei pronta? Quanto tu hai? Per fare un calcolo, diciamo, vedere come sei, bisogna fare il peso moltiplicato per 21. Che numero viene fuori? Quindi abbiamo dei valori che vengono associati per stabilire alcuni parametri della persona. Chiaramente parametri. La conclusione da quello che vediamo bene. Innanzitutto, la cosa importante è che siamo nell'ambito di persone sportive e quindi se c'è movimento vuol dire che stiamo molto bene. Questa è la cosa fondamentale. Dopodiché ci sono piccole cose da correggere, insomma attraverso mai qualche piccolo consiglio che possiamo condividere, niente di particolare, non si riesce a ottimizzare la corregge. Possiamo rivedere qui i dati del peso, il braccio, l'estero, il sinistro. Com'è che fa la macchina a sapere queste cose? La macchina utilizza l'impendenziometria, quindi attraverso un passaggio, di energia, chiaramente a basso montaggio, quindi non compromette niente agli organi interni, riesce a rilevare in termini di densità di passaggio, quanto tempo ci impiega e quindi riesce a rilevare se stiamo attraversando grasso, muscolo, acqua. E siete riusciti anche a misurare il peso delle sue ossa? Assolutamente sì. Che è di? Possiamo di peso delle sue ossa? Sì, sì, sì. Per le sue ossa parliamo di, ecco, la cosa interessante è che le persone quando noi facciamo queste valutazioni dice, vabbè, io sono peso tanto perché c'è una ossa grosse, no? E' la realtà c'è lui. Nella realtà invece, vediamo che nelle persone normalissime, come abbiamo fatto tante volte, nella donna va da 1,95 a 2,95 massimo il peso delle ossa, nell'uomo 2,66. Parliamo di chili. Chili, 3,69 sono. Questo? Perché le ossa sono fatte a 30% di acqua. Ascolta, è la lingua di Martina? Questa non c'è ancora il software che... Allora adesso toccherebbe a Marco, ma Marco cosa fa? Cedo il posto alla... C'è, sei di una generosità sconvolgente. Allora Angela, sei pronta a questa valutazione? Cosa ti aspetti da questa valutazione corporea? No, 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 sembra facile. No, no, prima devo incostare i lavori. Fai, fai, tu lavora. Non cominciamo con gli sfogliarelli per favore che non sono ammessi, abbiamo bambini... Allora, sentiamo, sentiamo in diretta il peso di Angela, lo scrive. Allora, l'età se vuoi dire. L'età è in silenzio. L'età non se la ricorda Angela, si è perso. Su, serio? Perché non so se hai già fatto il 59 o... sei della stessa mia allora sei un anno meno giorni 59 ne faccio 58 allora no hai già compiuto i 58 si a luglio ne farò brava allora 58 bene allora nell'attesa della preparazione vediamo se Marco si ricorda di quelle sprizze che avevo proposto Martina come è andata sei emozionata adesso mi ha detto che mi deve dare dei consigli io vado via quando ti hai consigli soprattutto spegnere la telecamera quando ti dai consigli perché la parte del suo lavoro facciamo lo sprizzo aspettiamo finire tutti non vorrei che dopo il malumore non è molto a salutare lo sprizzo vabbè allora aspettiamo facciamo i seri se no sembra che stiamo solo a fare scena invece la cosa è proprio divertente allora femmina allora fatta la stessa operazione che abbiamo visto fare a Martina ora le considerazioni vengono ricavate i dati anche per Angela ecco vediamo veronica e Loreno di vivere il benessere stanno valutando le indicazioni della della strumentazione per Angela che sta attendendo trebidante l'esito ecco il risponso questo è quello che noi dobbiamo adesso come dicevo dopo questi dati qua li inputiamo in un software che abbiamo e lavorerà ancora delle cose con delle immagini che poi spediremo via a me così si potrà avere anche dal punto di vista visuale diciamo che questo è il peso rilevato questa è la la percentuale di grassa massa grassa che c'è in questo momento nel corpo 20 20,04 se noi andiamo a posizionare in camera standard dove mettiamo donna l'età viene fuori che la tua è qui quindi diciamo che c'è un po' di carenza cioè è troppo magra troppo buono grasso pure della brand ero mi ha detto che dovrei mettere due chili di massa grassa questo invece lo dice grassa o magra massa magra e muscolo insieme corrisponde infatti vedi che sei sotto insufficiente come grasso ok diciamo che la tua età metabolica che è l'età delle cellule è 43 quindi va bene perché è al di sotto è 43 un applauso questo è invece l'acqua rilevata la percentuale e ci andiamo a posizionare questi qua sono chiaramente ancora dei valori standard diciamo su campionamenti tra l'altro su campionamenti europei perché gli asiatici hanno conformazione diversa quindi hanno dei conformamenti però diciamo sono stanco quindi tu hai gli occhi a nocciola e 56 diciamo che sei bene perché vedi dovresti avere minimo 45 massimo c'è serio gli occhi color nocciola veramente il grasso viscerale buono è 4 quindi da 1 a 12 6 a posto quindi sei buona come grasso viscerale i chilogrammi della tua massa ossea sono 2 chili di nuovo andiamo a riportarli qui 2,4 diciamo tu hai le tette che pesano quelle grazie Angela la massa muscolare complimentone poi andiamo a vederla è in giudizio bravo però vedi tutti questi valori scecrati insieme danno un profilo tuo che è 8 dove di fatto vedi che viene una massa muscolare bassa quindi andrebbe un attimino potenziale ok diciamo che questo qui il metabolismo anche per te facciamo esercizio vedere a che punto è allora abbiamo detto che è una formuletta in idea particolare 48.8 il peso per 21 1024 1137 tu bruci di più di quello che non so ecco perché vai a a erodere la 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 per cento di grazia perché bruci di più di quello che dovrebbe essere il tuo è un'incendiaria 1024 ok quanto pesa il braccio la gamba mi piace molto questa cosa allora la percentuale che hai di grasso è sul braccio sinistro 24 e mezzo braccio destro 22 e mezzo no? perché sei sempre 20 e destra è giusto è giusto che c'è più grasso di qua la gambe che ci sono pari tetti che sono perfette 27 e mezzo e sul busto è pochissimo grasso 14 e 9 eh sì infatti sulle gambe per quanto riguarda invece il peso i kg di massa muscolare hai 1 e 7 sul braccio sinistro 1 e 7 sul destro 6 e 3 tutto bilanciato 6 e 2 e 29 quindi è perfetto tutto bilanciato ok? brava a posto grazie brava ed ecco voilà una calza seconda calza e lì meglio se ci fermiamo Marco va bene allora dopo tutte le qualità della tua ragazza vediamo le tue qualità allora se vuoi scriverlo se non vuoi dirlo non lo so no lui può dirlo anzi vediamo cosa scrive siete tutti più piccole se lo dico io 45 anni 11 giorni ah no sesso punto di domanda ma non ci vedo bene professione di pesa no no lo sapete no ho preso di 3 perfetto ah scusa peso è no no lo so pesi sulla bilancia di Elochitti pesi sicuramente 55 allora impostiamo l'età vabbè queste sono le impostazioni Marco poi vediamo come va dopo così sali le tieni un po' aperte ok ecco in questo momento che sta facendo Loreno in questo momento la bilancia sta rilevando appunto l'inserenziometria quindi sta mandando questi impulsi per poi leggerli quindi accompagnerà poi nel suo altro lavoro non muoverti fermo sorridi viene meglio soprattutto la ripresa perché le cellule sono più contente esatto le cellule gioiose la bilancia ha detto basta allora lasciamo i nostri due tecnici a fare valutazioni del caso e poi vediamo come è andata ok però come sta andando 21 a 9 dopo le le vediamo le tabelline il metabolismo 1704 l'età metabolica 43 quindi non so il line è perfetto ma lui ce l'ha 43 anni però ma è come Angela che 55,5 è la percentuale l'acqua il grasso l'isola è 9 quindi diciamo non è male però insomma stiamo andando verso il borderline che è il 12 io ho 15 tu quant'hai? 15 chilogrammi di 2,9 di massa ossea e 55,9 la distribuzione del percentuale di grasso sono 20,06 braccio sinistro 19,02 destro insomma avete capito che sono dati, informazioni che aiutano a capire meglio come è fatto il nostro organismo vediamo poi alla fine le conclusioni generali allora Veronica e Loreno abbiamo qui le nostre i nostri tre protagonisti del reality hai le schede in mano facciamo una valutazione veloce allora Loreno o Veronica sì allora qui con Angela cominciamo chi hai in mano sì Angela allora Angela abbiamo visto che è in formissima sì è in forma tutti i valori insomma che abbiamo potuto che la bilancia rilevato sono a posto e l'unica cosa che come consiglio in generale è che peraltro avrebbe già rilevato a fare la valutazione stata fatta di aumentare un pochetto quello che è la massa grassa no perché no la grassa quindi cosa deve mangiare deve aggiungere deve integrare proteine nell'alimentazione questo poi lo vedremo anche con le altre persone che adesso sono a seguire per quello che ci riguarda il momento più importante di aggiornare la colazione al mattino quindi là è l'intervento più importante quindi dove vanno aggiunte l'uovo a colazione insomma proteine diciamo che mi piace o non tra l'altro in Italia la colazione nostra tipicamente o non la facciamo caffè o sbilanciata sui carboidrati e questo ci comporta dei problemi e fette biscottate e quindi va integrata la proteina quindi che sono appunto la brisaola lo yogurt l'uovo cioè quindi la brioche e cappuccino la brioche e cappuccino sarebbe da accantonare per un motivo semplice al di là che non contiene niente se non carboidrati che due secondi dopo sono trasformati e zuccheri esatto ma un cappuccino connetto in termini di calorie sono 550 calorie al mattino che è già un bel partire è già un pasto è un gioco un pasto se lo fa anche doppio serve il gioco ma c'è anche un problema della curva glipoglicemica questa è la cosa più importante difatti noi stiamo lavorando tanto io parteciperò al progetto dell'ASD di Padova con l'università per i piedi del diabete quindi io fortunatamente non ho diabete ma parteciperò come persona voglio dire che non c'era in questo momento e vengono dotati di contapassi eccetera per vedere cosa nel movimento fisico va a incidere positivamente sul diabete questo è il mio progetto io so perché ho delle persone che stanno lavorando anche su Roma sta partendo anche a Tivoli a Roma perché a livello nazionale la diabete in particolare le malattie che sono diabete, candiovascolari eccetera che sono dovute per la maggior parte a scarso movimento e poca cattiva alimentazione sta diventando oltre ad un problema sociale un costo insostenibile e quindi sicuramente oggi anche in Italia si sta pensando anche come sensibilizzazione il cittadino sembra sempre di più sentiamo in televisione che il diabete sta nascendo a bambini di 6-8 anni il diabete è merito 2 che è una roba incredibile sicuramente quindi va cambiato qualcosa nelle abitudini in Olanda chiudo questa piccola cosa in Olanda sono già partiti con i medici di base in Italia stanno facendo cose di questo tipo che danno le ricette prescrivono oltre che i farmaci ma in particolare il movimento fisico quindi con le persone vai e muoviti è diventato una medicina che è una medicina naturale allora lei eventualmente dei prodotti Herbalife cosa potrebbe utilizzare? diciamo che i prodotti Herbalife da utilizzare consiglieremmo il nostro shake che è la colazione quindi che al posto di farsi una colazione vuol dire tradizionale è un pasto proteico che va a cambiare la colazione dove dentro con 213 calorie abbiamo tutti quanti il macro e i micro nutrienti necessari a nutriere il nostro cellulo che è qualcosa di diversa che alimentarsi per colazione gusto, cappuccino gusto, cappuccino, vaniglia, cioccolato beh la mattina direi però va bene cappuccino bene passiamo a Marco ok Marco sta fremendo piccola cosa nel caso suo per un periodo almeno magari integrare nel formula 1 che è il nostro sostituto del pasto magari un po' di proteine poca cosa per abituare a aumentare un po' di massa al mare prego grazie prego anche qui diciamo che in generale abbiamo visto che le cose vanno bene intanto il profilo insomma è sul 5 quindi è centrato abbiamo visto che c'è niente di particolare un po' di attenzione a livello di grasso viscerale dove le persone diciamo in maniera tranquilla dovrebbero essere da 1 a 12 qua non è preoccupante però insomma stiamo andando verso il 9 verso il 12 quindi scusa poi vedere il grasso viscerale è un po' di più va bene basta brava sei l'orgoglio di tutti noi vai tranquillo vai vai bene poi nel suo caso abbiamo visto che poi insomma già lo sapeva deve avere un po' di più sicuramente perché la rilevazione di acqua la percentuale è un po' sottotono quindi nel suo caso la cosa semplicissima è bere di più non bere due litri d'acqua su una volta sola ma nell'acqua alla giornata sicuramente quindi abituarsi già il mattino bevi che non d'acqua sicuramente e spalmarlo nell'acqua della giornata questo sicuramente aiuta nel tuo caso i due litri sono più sufficienti e questo sicuramente contribuisce a star meglio a dietrarsi di più e anche a mettere in moto il metabolismo e quindi andare a erodere un po' di grasso viscerale perché se aumenta il metabolismo si brucia di più grasso a lui conviene fare qualche pasto sostitutivo eventualmente ma diciamo per quello che ci riguarda visto che siamo in Italia noi lo consegniamo a tutti perché non è solamente una questione di diminuire il grasso viscerale o aumentare la massa magra ma di avere un equilibrio all'interno del nostro fisico perché è stato progettato per notire le cellule quindi rileviamo anche un aumento di energia sicuramente le persone che lo fanno dopo due o tre settimane sentono che l'energia sicuramente non hanno un avviocco diciamo nel mattino se ne accorre subito perché dalla coalizione fatta in questo modo ci arriva a pranzo senza avere lo stimolo da fare quindi questo è importante Martina da ultima last batte notte list come dicono in Inglaterra abbiamo visto che anche qui in generale il profilo centrato 5 quindi siamo bene l'acqua un pochettino di più bene che questo qui aiuta sicuramente perché diciamo il minimo 45 siamo a 48,6 dovremmo andare a un 50 55 quindi un pochetto di più di bene il metabolismo è un po' sotto tono a poca cosa siamo a pochi punti quindi non è tantissimo però dobbiamo aiutarlo facendo scendere un po' quello che è la massa grassa in questo caso perché un pochettino dovremmo lavorare per scendere perché abbiamo visto che nel profilo relativo allo che è la massa grassa siamo sani però stiamo andando anche lì verso il sovrappeso quindi è il momento adesso di prenderlo e riportarlo a casa in maniera corretta quindi anche lei lei due passi su sicurezza no direi che no ah c'è la più equilibrata bravo bravo Dario di qualcosa più positivo dico che va bene brava no poi ritorno a dire siccome noi lavoriamo con persone insomma che stiamo incontrando che una buona parte a noi purtroppo non fanno movimento fisico questa è la cosa proprio più negativa e stiamo vedendo che i valori delle persone che non fanno movimento fisico sono veramente molto molto diverse quindi già chi fa movimento ha già no e loro invece sono bravissime fanno già due allenamenti alla settimana e stanno per diventare dei veri runners esattamente quindi ragazzi voi siete tre su dieci rappresentate un po' tutto quello che è stato anche detto alle altre persone vi ringraziamo per la vostra grazie a voi e complimenti bravi grazie a tutti grazie a tutti